Il nostro spettacolo vuole provare a parlare del circolo vizioso di negrosi e esterismi, autoindotto ed autoperpetuato dal lavoratore, più che dal lavoro stesso. Il modo più chiaro e lineare per trattare questo tema ci è sembrato l'utilizzo di un sombrero, bamboli, jingle per bambini, pastiglie, arroganza, fiorellini, seggioline, violenza, vulgarità, luci strobo, luoghi fatati e tubi catodici. Come essere ad una festa, nel fantabosco, a parlare di problemi esistenziali con dei teletubbies, pieni di droga.